Buongiorno a tutti, ben ritrovati e soprattutto buon anno dalla redazione di Fano TV e ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Cominciamo questo nuovo anno, anche se finisce la settimana, siamo a sabato, sabato 2 gennaio e siamo qui per leggere i giornali, giornali che oggi dedicano ampio spazio naturalmente al resoconto della notte di San Silvestro, la notte più lunga dell'anno. Andiamo però prima a vedere il Santo del Giorno, non abbiamo cambiato le abitudini, anche se è cominciato questo nuovo anno, le abitudini sono quelle vecchie, quelle dell'anno scorso, ovvero la lettura dell'Almanaco con il Santo del Giorno, oggi è San Basilio Magno, il sole è sorto alle 7.37 e tramonterà alle 16.33. Cambia anche il tempo, un tempo che diventa nuvoloso con pioggia e anche con la neve. Oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso al mattino con incremento della copertura da ovest nel corso della mattinata e cielo molto nuvoloso e coperto nella seconda parte della giornata. Avremo delle precipitazioni sparse dalla tarda mattinata localmente anche a carattere di rovescio nelle zone interne più abbondanti nel settore centro settentrionale della regione Marche. Nevicate sulle cime più alte degli Appennini, le temperature sono in aumento, i venti deboli, il mare da poco mosso a mosso. Per domani 3 gennaio, domenica, cielo nuvoloso molto nuvoloso, non si escludono temporanee e parziali schiarite nel pomeriggio, ci saranno precipitazioni sparse nella prima parte della giornata a carattere nevoso a quote medio-alte. Le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi, i venti moderati nord-ovest. Probabile tempo instabile anche nelle giornate di lunedì e martedì per il transito di ulteriori due sistemi perturbati. Ma l'ultimo dell'anno si è chiuso con il bel tempo, non c'era neanche quella nebbia fastidiosa ed umida, quindi una giornata fredda naturalmente, una nottata fredda per chi l'ha passata in piazza all'aperto, però gradevole tutto sommato. Allora, 10.000 in piazza, siamo sul resto del Carlino di Fano, 10.000 in piazza tra divertimento ed eccessi, albero di Natale sabotato, ieri pomeriggio, tagliati i fili elettrici, il sindaco Seri su Facebook scrive i soliti cretini, mentre il 118 ha raccolto diversi ubriachi a rischio coma etilico, mentre sul fronte dei danneggiamenti l'unico da segnalare a Lucrezia è andato in fiamme un cassonetto per alcuni petardi che sono stati fatti esplodere all'interno. Per il resto c'è la cronaca di questa nottata trascorsa in piazza 20 settembre a Fano, mentre qua sopra vedete un gruppo di giovani che festeggia, qua l'intervento della polizia municipale o polizia locale, come si chiama da un po' di giorni, ma anche dei vigili del fuoco di Fano che hanno sistemato la centralina, messo in sicurezza la centralina elettrica dell'albero di Natale che è stata sabotata e quindi c'era un principio, poteva esserci un principio di incendio e per fortuna solo fumo e poi il concerto di Capodanno invece al teatro della fortuna. Allora, sempre su questo argomento, andiamo sulla pagina di Pesaro, gli scoppi e il petardo nelle mani, 48enne è stato ricoverato con ustioni gravi e poi liti a baia flaminia, multe per il lancio di ordigni e ricoveri, ieri mattina un giovane senegalese ha preso a pietrate delle pensiline, evidentemente ancora aveva in circolo dell'alcol che lo ha fatto sballare un po'. C'è chi ha aperto il 2016 alla grande, al superanalotto ha vinto infatti 76 mila euro, c'è anche invece chi l'ha cominciato male perché si è portato a casa, credo fosse l'unica multa elevata per lo scoppio dei botti, 150 euro, credo sia successo a peso, lo vedremo tra un attimo. Poi i nuovi nati e gli ultimi nati, un'altra di quelle consuetudini che si fanno per l'inizio del nuovo anno. Allora andiamo a vedere chi è nato, il primo nato del 2016. In realtà a Fano e Urbino niente, si sta aspettando a Fano, non so se poi è nato nella notte, però fino a ieri pomeriggio non è nato, non c'era nessun nuovo vagito. Mentre a Pesaro è nata una bimba, si chiama Lucia, pesa 3,50 kg, è nata ieri mattina alle 7.49 nel reparto di ostetricia di Pesaro e della primogenita della coppia Matteo e Lara Mancini di Monte Labate. Sia la mamma che la bimba stanno bene, eppure chiaramente il papà. Poi a Santa Croce ci sono partorienti con dolori da travaglio, ma ancora bisognerà attendere, ripeto, forse durante la notte probabilmente qualcuno sarà già nato, ma insomma noi ci limitiamo a leggere i giornali. Per le ultime ore abbiamo il sito internet. Sotto vedete alcuni festeggiamenti, gente che si bacia sperando in un anno di serenità e pace. Poi sotto vedete altre, una tavolata di persone, la cena solidale ai musei civici. Poi andiamo sull'altra pagina, quella di Pesaro sempre, gli 80 anni di Bibi Selci, che il patron Giancarlo Bibi Selci, oggi compie 80 anni, il patron della BS, oggi c'è questa festa di compleanno per lui, mi sento bene, dice quello che si chiude è stato comunque un buon anno. Mentre sotto due lutti, il primo si è spento a 85 anni, Vito Galeppi, una vita da medico di famiglia, martedì ci saranno i funerali, alle 14.30 in cattedrale a Pesaro, dove ci sarà anche il rosario. Poi addio a Giacomina Storica Tabaccaia, 87 anni aveva Giacomina Paolucci, è stata per 40 anni proprietaria della tabaccheria Cardinale di Piazza Lazzarini. Andiamo avanti con la rassegna stampa da San Costanzo, si parla di film, al Teatro della Concordia, l'ultimo cortometraggio del regista sancostanese Nicola Sorcinelli. Lo vedete qua sopra. Allora, inizio l'anno con la mia Elena, questo è il titolo, mentre la cronaca del cenone di Capodanno, un cenone che puzza di marcio, sequestrati 72 kg di pesce scaduto, controlli della Guardia Costiera nei negozi e nei ristoranti. Sono stati controllati in particolare gli esercizi della grande distribuzione. In una serie di controlli in pescheria e ristoranti, ridosso del 31 dicembre, i militari della Guardia Costiera hanno fatto 11 sanzioni per un totale di 16.000 euro. E adesso cambiamo giornale. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, anche qui il resoconto della serata di Capodanno. Musica, danza, danze e applausi per 5.000 persone in piazza. Una vera folla, la festa sotto l'albero di Natale, in barba ai divieti, nei rioni, sono stati sparati botti e fuochi d'artificio. E sono state lanciate anche le lanterne dal centro storico verso il mare. Qui fotografie, vedete, di questa piazza gremita, in alto i calici sul palco e anche a teatro. Poi di spalla invece sulla pagina fanese del Corriere Adriatico, il fortunato vincitore della seconda estrazione di un posto al getto è Danino Pazzaglia. Lo vedete qui nella fotografia con Luciano Cecchini davanti all'Infopoint di piazza 20 settembre. E questo sessantenne metalmeccanico salirà in una delle tre sfirate, domenica 24, 31 gennaio e 7 febbraio. In una di queste tre salirà sul carro allegorico e avrà l'emozione, la fortuna, la gioia anche di lanciare i cioccolatini, i dolciumi sulla folla. Ma non è, e qui andiamo sulla pagina di Pesaro e Urbino, non è un buon anno per tutti, soprattutto per chi ha a cuore la sanità. E parliamo di sanità nell'interno dove gli ospedali sono stati riconvertiti. Sassocorvaro, Fossombrone e Cagli da ieri hanno perso anche il primo intervento notturno, San Silvestro di proteste. Vedete qui gli striscioni, un po' di esponenti politici di Fratelli d'Italia con Antonio Baldelli davanti all'ospedale di Sassocorvaro, eccetera, eccetera. Insomma, poi c'è una buona notizia, una buona notizia però possiamo dire a metà, perché, guardate il titolo, tre nuove potes, cioè sono tre postazioni dove ci sarà un'ambulanza sempre presente e disponibile. Da ieri attive a Pesaro, Montecchio e Calcinelli, però, e questa è la buona notizia, quindi, cioè, tre postazioni nuove dove ci saranno queste tre ambulanze, però la notizia un po' meno buona è che ci sono solo gli autisti, che sono professionisti, per carità di Dio, però non sono medici, non sono infermieri. Quindi l'unica cosa che possono fare, in caso di emergenza, possono, come dice anche Giorgio Scrofani dell'Antares, possono praticare soltanto il massaggio cardiaco e usare il defibrillatore. Nulla di più, in casi di emergenza, come ad esempio un incidente grave, sarebbe comunque necessario l'intervento di un'altra ambulanza con il medico a bordo. Insomma, come dice Scrofani, il servizio è una prima risposta, ma non quella che servirebbe. Mentre anche qua sotto, vedete, alcol e botti in cinque finiscono al pronto soccorso, ma comunque nulla di che. Benvenuti a Kai, Yuntao, Angelo e Lucia. Sono i bambini nati a Marche Nord, l'azienda ospedaliere di Pesero e Fano. Due fiocchi azzurri chiudono l'anno, mentre quello rosa, abbiamo detto Lucia, nel 2016. Mentre, come dicevo, al Santa Croce di Fano, l'ultimo nato è un cinesino, un bambino cinesino, venuto al mondo alle 4.48 del 30 dicembre, di 4.200 grammi, si chiama Kai Yuntao, ed è il figlio di una coppia di immigrati residenti a Fossombrone, coppia che ha già un altro figlio. La mamma si chiama Ueha, spero di averlo detto bene, il nome del papà invece è noto. E la coppia di papà e mamma cinesi, eccole qua, vedete. Mentre poi qua ci sono, naturalmente, li menzioniamo anche perché mi pare giusto, sono questi tre bambini venuti al mondo tra il 30 dicembre e il 1 gennaio. C'è con mamma e papà il piccolo Angelo Guidi nel suo lettino, poi Lucia Mariani e con i suoi genitori, appunto abbiamo detto Kai Yuntao. Sotto invece l'equip di ostetricia. Questa è la notizia che troverete sulla pagina 5 del Corriere Adriatico di oggi. Poi a centro pagina invece il bilancio della protezione civile della città di Fano. Prevenzione di interventi, 12 mesi da volontari, sempre allerte, disponibili in ogni momento a intervenire in situazioni di estrema necessità. I volontari della protezione civile nel corso del 2015 hanno svolto 7 interventi di emergenza, 5 di prevenzione e hanno partecipato a 5 eventi di particolare importanza e a 6 esercitazioni. E poi tante altre cose che potrete leggere sul giornale di oggi. Poi sui quotidiani troverete anche questa critica, questo spazio che è dedicato alla critica di Corrado Cardelli. È un'opinione che probabilmente solleverà anche un dibattito, perlomeno questa credo sia l'intenzione di Corrado Cardelli, ex consigliere comunale ai tempi della democrazia cristiana, oggi noto in quanto fa parte del direttivo della lista civica politica bene e comune. E Cardelli lancia appunto questo dibattito sulla qualità degli spettacoli dopo aver visto Gli Sbancati 2 e il San Costanzo Show. E sono critiche, chiaramente, critiche che troverete sulla pagina del Corriere Adriatico. Quella di Pesaro invece, eccola qua, la pagina di Pesaro. Lunga notte tra la piazza e l'astronave, l'astronave è il palazzetto dello sport, due grandi eventi che hanno richiamato migliaia di persone, tutto esaurito nelle strutture ricettive stagionali. Sotto invece il tuffo in acqua, il primo dell'anno, una sorta di rito, di rituale. Il tuffo di 43 temerari e la corsa dei Babbo Natale. La gara podistica in centro storico e il bagno in Adriatico sono diventate ormai tradizioni del primo gennaio seguite da un grande pubblico. Mentre, come vedete, anche qui un uomo vince, uno vince 76 mila euro, l'altro invece viene multato un 31 dicembre dal Sapore Diverso per due pesaresi, la sanzione per i botti che sono stati esplosi in centro storico. A Zecca un 5 al Supernellotto, festa alla ricevitoria di via Ciro Menotti. Siamo sempre a Pesaro. Andiamo a Senigallia invece adesso. Guardate la fotografia. Il ritraio è un incendio ad una macchina, una Land Rover, con il cofano in fiamme appunto sul lungomare. Rugo Doloso a Castelleone, una Land Rover in fiamme, mentre, sempre per la cronaca, giovane investita sull'Arceviese. Fuoco nel portone di casa è un giallo. I ladri invece irrompono durante il Veglione. La festa era sempre a Senigallia, la festa era al piano di sopra. Altro colpo alle saline, rubato il fondo cassa al ristorante Porta Braschi. Adesso invece andiamo sulla pagina del messaggero, che qui vedete 42 temerari si tuffano per il primo bagno dell'anno. Eccoli qua, tutti a mani alzate, mentre una folla di curiosi con cellulare in mano scattavano fotografie per questo tradizionale bagno in Adriatico. Capodanno, le piazze tornano a riempirsi, due feriti lievi per i pedardi, una sola multa per i botti vietati, comici e cantanti protagonisti. Poi ospedali, piccoli ospedali chiusi di notte, l'ora della rabbia e delle proteste. I sindaci pronti a dare battaglia, gli amministratori di Caglie, Fossombrone e Sasso Corvaro intendono mobilitarsi contro la delibera 735, che trasforma gli ospedali di Polo in ospedali di comunità. Un provvedimento che tra le altre cose prevede da ieri la chiusura dei punti di primo intervento nelle ore notturne dalle 20 alle 8. La battaglia degli amministratori si era concentrata soprattutto nel richiedere il servizio 24 ore su 24 dei punti di primo intervento dei tre piccoli ospedali. Lo ricordiamo, Caglie, Fossombrone e Sasso Corvaro. Anche l'Avis in prima linea per aiutare i profughi. Lunedino, occasione della partita, VL Manital, l'Adriatic Arena, la tradizionale raccolta dei fondi. Buon anno a tutti, invece, gli auguri di buon anno da parte del meteorologo del Messaggero che lancia e fa le sue previsioni. Come vedete dal titolo, in arrivo le nevicate e la pioggia, nevicate oltre 1.300-1.500 metri con abbassamento a quota 700-900 metri nella notte. Nella tarda mattinata di domani il tempo migliorerà parzialmente, rimanendo però piuttosto nuvoloso. L'altra pagina, anche qui, per chiudere velocemente, soltanto i titoli. Vedete il Brindisi in Piazza del Popolo, a Pesaro, solo una multa per i botti in piazza. Poi anche qui, Fiocco Rosa e Lucia, la prima bimba dell'anno, mentre le ultime cicogne portano Angelo, Antonio e Cai. Afano, atto vandalico. Un atto vandalico spegne l'albero tra 10.000 festanti. Recisi i cavetti della centralina delle luminari e i vigili del fuoco sono intervenuti per sicurezza. L'altra pagina, anche qui vedete la notizia di cronaca, sono stati sequestrati 72 kg di pesce avariato, multate 11 attività, capitaneria di porto in azione durante le feste, notte di risse, danneggiamenti e feriti, che però, come abbiamo già detto, non sono gravi. Svenduto invece l'ex Bramante, il PD finisce sotto accusa l'immobile ceduto alla Cassa Depositi e Prestiti per 4 milioni e mezzo di euro, ma nelle ipotesi della provincia di Pesaro era stato valutato molto di più. Crescentini è stata un'operazione per evitare il fallimento dell'ente, salvare gli ex amministratori a rischio di inelegibilità. E poi, ora, quell'immobile strategico per la città di Pesaro rischia di fare la fine di Villa Marina e San Benedetto. Poi, sotto, scuola primaria e palestra, siamo a Vallefoglia, nel calendario del Comune, e sotto ancora, da Mondolfo, Villa Terni, complesso turistico contestato dagli ambientalisti. Era l'ultima pagina della rassegna stampa di oggi. Occhio ai giornali torna lunedì 4 gennaio. Stasera, invece, non andrà in onda l'edizione flash del telegiornale Occhio alla Notizia. Dunque, ci ritroveremo lunedì mattina, puntuali, come sempre, alle 7.30. A voi tutti l'augurio di un buon fine settimana. Grazie a tutti.